Al mio arrivo di studio apro subito Cleos per verificare le scadenze e gli appuntamenti della giornata. Dopodiché procedo sempre all'interno di Cleos alla redazione dei vari atti nonché all'invio delle varie mail che vengono direttamente salvate nel gestionale. Gestisco le telefonate così come gli appuntamenti e annoto all'interno di ogni singola pratica quanto viene svolto. Avendo tutto sott'occhio e attraverso la dashboard di Cleos non corro il rischio di dare priorità errate alle varie scadenze e alle pratiche. Ogni documento che mi viene presentato dall'assistito viene digitalizzato e direttamente inserito all'interno della pratica attraverso una funzionalità di Cleos. In tal modo non corro il rischio di perdere la documentazione e in ogni caso ho sempre la pratica completa ovunque io vada e questo anche grazie all'applicazione mobile. Avendo uno studio individuale Cleos ha portato numerosi benefici alla gestione dello studio e lo considero ormai il mio alter ego digitale che mi permette di avere una visione complessiva della pratica che spazia dalle scadenze alla fatturazione passando per la redazione degli atti. Cleos è stato molto utile nel momento in cui si è bruciato la radice del mio studio, un fatto che preoccuperebbe praticamente qualsiasi professionista, mentre con Cleos che opera tramite cloud non ho avuto alcun tipo di problematica in quanto mi ha permesso di ritrovare il mio studio immediatamente e ho potuto proseguire il mio lavoro senza perdita di tempo e soprattutto senza perdita di alcun dato, dato che appunto ritrovo tutto in Cleos dagli atti alle email. Grazie al cloud e all'applicazione mobile posso evitare di portare i fascicoli cartacei in udienza. Ricordo peraltro un aneddoto in cui Cleos mi ha permesso di produrre un documento che solamente l'udienza si è rivelato fondamentale ai fini della difesa del mio assistito e un documento che non era stato prodotto in precedenza. Mi ha permesso così di ottenere un vantaggio sulla controparte che è una cosa non indifferente. Per quanto riguarda la parcellazione, Cleos rappresenta uno strumento più che valido, un posto che permette l'inserimento di ogni singola attività svolta con la relativa indicazione dei compensi e o delle spese sostenute. Le fatture vengono generate immediatamente e attraverso un semplice click. Si può inoltre procedere a eventuali solleciti in modo automatico. Cleos permette inoltre di avere report immediati sulla suddivisione delle pratiche in stragiudiziale, giudiziale, volontaria giustiziazione e quant'altro e questo rappresenta indubbiamente un vantaggio sia a livello di gestione amministrativa che fiscale. Un altro vantaggio di Cleos è rappresentato indubbiamente dal servizio assistenza che è sempre stato pronto e puntuale per risolvere qualsiasi problematica. Intervenendo da remoto il problema viene risolto immediatamente e i tecnici sono peraltro molto disponibili anche da dove non vi siano delle specifiche competenze tecniche e si prestano anche volentieri a consulenze appunto di carattere tecnico. Consiglierei sicuramente Cleos ai colleghi anche ai meno esperti di informatica posto che l'interfaccia user friendly permette di essere in brevissimo tempo operativi e non necessitare di particolari competenze. Permette di tenere sotto controllo lo studio attraverso la dashboard e operando in cloud i dati sono protetti secondo le normative vigenti. Sono inoltre gestiti direttamente da Walter Scluver e ciò nel rispetto del GDPR e della normativa.